A prescindere dal fatto che i libri sono adatti a qualsiasi età, io mi trovo alla libreria Mori con Valentina per far capire a voi ragazzi che internet non è tutto, bisogna anche leggere, giusto? Ha un altro facile sfogliare i libri. Non tutti possono essere colti come me e preparati nel... Ma io ti ho preparato un'altra perla, questa volta sì, andiamo su qualcosa di molto semplice, di molto divertente, di molto spassoso. Cos'è? Chi è Francesco Piccolo? Francesco Piccolo è il cugino di Pupo che è chiamato così perché cantava a Badiannano... Non perché è piccolo. Sì, piccolo, è il soprannome. Che ha scritto questo libro di grande successo, uscito prima di Natale, dal titolo Momenti di trascurabile... Momenti di trascurabile felicità. Oh, vedi allora. Praticamente, ecco, il momento di trascurabile felicità è la storia di D'Alema che, visto il momento difficile politico, cerca di, per la sinistra, la costituente. Però si accorge che alla sinistra, più che la costituente, gli serve il ricostituente. Praticamente sì. No, piccolo in questo librettino, che è veramente una cosa velocissima anche da leggere, mette, non è un saggio né un romanzo, lui praticamente fa una carrellata di questi momenti di trascurabile, che lui definisce di trascurabile felicità. Si può definire un momento di felicità trascurabile? Cioè, sono tutti momenti che magari noi... Dimmene uno. Te lo posso leggere, uno dei suoi? Sì, ecco, leggiamo. Cioè, sono delle piccole sensazioni che lui esterna. Qui dice... Perciò se in autostrada trovi un bagno dopo tanto che la tieni. Ah, che benissimo. No, può essere un momento di trascurabile. Appunto, hai detto e parlato di bagni, qui aprendo a caso, chiudermi a chiave nei bagni delle case dove non sono mai stato e mettermi a curiosare su tutti i prodotti che usano. Cioè, sono delle piccolissime cose. È vero, l'ho fatto anch'io. Che nessuno magari ha il coraggio di dire. Ero... Che parlare, però, lui ne mette una. In sera c'è anche dell'umorismo, dell'ironia. Comunque la gente lo fa, anche Arcore l'hanno fatto. Poi fanno anche le fotografie. Sì, sì, è pieno di questi libretti. Se non c'hanno le... Perché Arcore hanno fatto così, nei bagni hanno messo... Ma perché bisogna tornare sempre lì? Perché c'è una storia turpe nella quale, insomma, hanno... Una sera hanno portato le polpette da mangiare e molte erano microfoni. C'è la gente che ancora ci sta male. Quindi, fascia d'età di lettura. Ma fascia d'età dall'adolescenza in avanti. Non ha un limite in su. Esatto. Ovviamente i ragazzi... Perché chi legge è uguale per tutti. Una mica, ma era un venta d'ora. Chi legge è uguale per tutti. Ci è arrivata un po' dura, ma ci arriva anche lei. Non è direttore.